Signori benvenuti nell'era del bounce, oggi andremo a provare la nuova carta delle spotret che come al solito non c'è uscita alla prima, non c'è uscita alla seconda ma bensì c'è uscita alla terza spot con tanto di 1000 token settimanali perché non possono mancare e vi invito prima di iniziare il video a farmi sapere se l'avete pullata e se già l'avete provata e in che mazzo l'avete provata e vi ricordo come sempre se avete dubbi a riguardo di qualsiasi altra carta di Marvel Snap potete benissimo entrare nel nostro gruppo telegram che ci siamo un bel po' lì che rispondiamo a tutte le vostre esigenze e poi tutti gli altri soldi, vi ricordo di iscrizione al canale, buona visione! Regà Marvel Snap è intasato di bounce ed è quello che io voglio perché il bounce è veramente un mazzo molto divertente, oggi lo andiamo a provare così il nostro sasquaccione con la doppietta di scimmie con la bellissima Hitmonkey andremo in modo di trovarlo anche con il lupo in un altro video apposito, gli ho buttato anche Avok in mezzo ok? perché alla fine lo proviamo, dai lo proviamo, è una carta sempre delle spot, Avok è una carta molto sottovalutata ma se giocata bene può dare veramente molto soddisfazioni e tra l'altro ci voglio fare anche un video apposito per un altro mazzettino col Profix che secondo me può essere molto ma molto worth questa carta ma non è lui il protagonista di questo video ma bensì sasquaccione che ho scoperto può anche essere una versione femminile questa di sasquatch a quanto ho capito io, quindi che cosa noi puntiamo a fare? ovviamente non abbiamo Sage, carta molto bella per fare stats Hitmonkey per fare stats, sasquatch per fare stats, Opsummer per rampare, Avok per compensare no? compensiamo il suo malus di energia con Opsummer e poi abbiamo tutte le nostre carte che ci possono servire non c'è Falcon, c'è solamente Beast, vamo sempre mi sta veramente piacendo questo sasquatchone raga, a parte tutto che se vogliamo parlare della carta in sé per sé a me quella tipologia di carte, perfetto, progetto Pegasus, ok, però vabbè, ma io chi sono per non buttarglielo subito sasquatchone Scusi tu, una 1 e palla al centro, però tu ce l'hai più grosso, ho capito, Angelana, vai Thunderbolt è una bella location del merda comunque, io tu gli butti armor per non saperne leggere né scrivere allora, vi stavo dicendo, la tipologia di carte che riguardano questa tipologia qui, no? che si sconta, tipo la Mockingbird, la Shulk, sasquatch, sono carte che a me piacciono veramente tanto mostro Angela e vai, ho capito spaderemmo Nico Minoru non posso rischiare di giocare né Avoc né Beast adesso, per il momento il cavaliere ah ah, ho capito, ho capito, ho capito, che culo frate, mamma mia a posto, perfetto cioè io mi dovrei riprendere le mie carte? proviamo a fare Avoc? proviamo a fare Avoc? Ma che ce ne frega? e noi non ci abbiamo Summer, via, ritirati ecco, avete scoperto come si Brick and Bounce oh, ehi, 697, ragazzo facciamoci valere, ambasciata del Wakanda, bellissimo, sasquatch 6, 12 normalissima carta a 6 diventata da sasquatch, va bene e Spider-Ham, Spider-Ham raga, io ve lo dico, in ogni video c'è Spider-Ham, non sotto guarda todo todo nova più sera? che cosa sei? basta ma basta e dai ma non voglio giocarlo subito, sasquatch ma fammi utilizzare il tuo effetto io come faccio a non giocarlo subito? mi direi tu e ti dirò io c'hai anche ragione devo giocarlo dici lizard dici il piggy va bene ok ce lo possiamo riprendere subito ce lo possiamo riprendere subito così che gli buttiamo un altro Spider-Ham subito Atlantide ecco qua, vedi bello Sage Demon, Spider-Ham The Wood capito? tutte robe molto belle Atlantide non ci prega niente perché noi ci abbiamo capito abbiamo misterio ah vabbè ma vabbè niente perché così facendo io non posso riutilizzare l'effetto di The Wood capito? dammi la scimmia che ti regala emozioni non mi dà la scimmia ho capito però magari questo e lui ci avrà attenzione però attenzione 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 perché lui ci avrà Killmonker quindi Spider-Ham lei e lei e buttiamo Stats il demon ci lo teniamo non voglio perdere il demon ah dici Shadow King così godo 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 mamma mia quanto sto godendo frate quanto sto godendo di questa cosa Kitty Pryde e vabbè frate però no cioè scusami non mi dai la scimmia adesso non mi dai la scimmia io che cosa ti posso dire così e così e così e forza cioè nel senso The Wood è inutile abbiamo misterio per chiudere va bene bisogna vedere se c'è la scimmia se c'è la scimmia possiamo fare Kitty Pryde più misterio più demone e più demone vabbè capito ok Luke Cage va bene che c'è lui c'è una roba tipo per farmi del male frate abbiamo chiuso in un modo molto blando si ritira però fortunatamente lui pensava che ci avessi roba in realtà io non c'evo nulla è un deck molto particolare questo riesce a ciclare carte forti in una maniera assurda anche Sage però Sage in questo caso non l'abbiamo fatto in un caso molto assurdo perché Sage è molto molto buona a farla quando ha riempito anche lui la location capito palestra fuck well ok Kitty Pryde facciamo Kitty Pryde e The Wood va bene Blade ecco ma come Blade che scarta Dracula perché bello questo abadino sembra minato questo Shang mondo assassino mi interessa voglio riprendere l'effetto di The Wood voglio riprendere voglio riprendere voglio riprendere demone Kitty Pryde e vediamo in qualche modo in un discard se può farsi vedere questo mazzo perché è da vedere perché è vero che butta stazio vedete già ce l'abbiamo a 4 eccolo eccolo allora noi dobbiamo puntare a fare più roba possibile o al turno 5 o al turno 4 così che lui ce l'abbiamo scontato veramente a pochissimo capito già è un meno 2 così il problema è adesso che cosa possiamo fare io giocherei così su Walmart ma si è scartato vela snap snap subito patram kitty pride beast no giusto giusto infine aspetta perché adesso ci abbiamo combo ci abbiamo combo ok ok lui ha 3 lui ha 3 abbiamo tutte le carte a 0 più lei lui ce l'apriva lui si ritirà perché noi avevamo un turno veramente ma veramente worth ok era un turno veramente fortissimo perché avevamo tutte le carte a 0 lei a 1 ce l'avevamo sage avevamo misterio che scomba con Sasquatch ce l'avevamo a 0 il turno dopo avevamo Sasquatch a 0 il turno 6 diciamo anche che ha anche briccato lui perché si è scartato ela si è scartato Dracula non aveva più come ciclare il suo mazzo e diciamo che gli abbiamo dato il cazzo però io vorrei fare un game pulito se posso spaderem musica per le mie orecchie guarda se spaderem prende in amore io sono sempre molto soddisfatto di questa roba allora bello bello così bello così via nico minora via the wood the wood si distrugge ci facciamo per scavare le nostre due belle carte via posizioniamo sempre le nostre carte a 1 in una location così che noi con vista avendo solamente vista e non fatto non questo ecco possiamo intanto prenderle tutte bello it monkey oh finalmente finalmente ce l'hai dato che mi dai un altro cavaliere vabbè fortunatamente che non ho messo tre carte e lì cazzo dici tu abbiamo angela abbiamo demon il turno 4 possiamo riprendercelo e fare avok ma avok io preferirei non farlo preferirei non farlo avok perché cioè nel senso se non ci abbiamo summer avok potrebbe essere molto complicato lady sif che scarta magneto e lui c'ha una bella spada debono di 4 al 12 la squaccione ciao bello allora ci abbiamo la scimmia da fare ci abbiamo sasquatch da fare e io farei sasquatch tra l'altro ma lo butterei tanto e non quanto lo butterei su strange h tanto il turno 5 sai facciamo robe però è vero che c'è città della slout città della stellare non do slout buttiamo sasquatch qui e poi turno 5 vediamo di fare robe con hit monkey con beast magari anche no no magari anche con sage sfruttiamo sage intanto sasquatch lo giochiamo ok e lì in qualche modo pareggiamo quel gap immenso che ci sta ah ci non pareggiamo nulla ho capito allora qui è anche vero che facendo così noi prendiamo veramente tanti schiaffi al centro se facciamo così noi abbiamo 5 di mana il turno successivo ok possiamo fare questi non giochiamo sage però giochiamo il monkey misterio oddio ma chi sono io per non tentare la sage qui però ma chi sono io g ghost rider bello però bello che non può spostare nulla perché non avrebbe spostato nulla a prescindere però vai ok olè sage che va a 8 perfetto vediamo perfetto così perfetto così ok noi abbiamo perso quella location lì perfetto questo è risaputo questa cosa però noi facendo misterio facendo spider ham anzi facendo nico minoru misterio mi serve misterio mi serve altrimenti si potrebbe fare uno due tre tu vai a quattro quindi non mi serve avok e concludi così il problema è che qui vado a cinque sei più hit monkey non so se basta però è l'unica play è l'unica play che posso fare tanto io qua devo vincere per forza non so se basta teoricamente no scar armor 14 punti mi sa che ci arriviamo però scusami no big e teoricamente dovremmo arrivarci lì so quattro punti lì c'è hit monkey arriva già a 12 olè la scimmia più la scimmia più sage tutto abbiamo giocato tutto vedi che non mi sta dando l'op summer però non mi sta dando l'op summer che è l'unica carta che mi può compensare il gap che ci sta con avok capito cioè ve la vorrei mostrare sta roba capito perché secondo me è interessante altrimenti avok diventa veramente una carta inutile su questo mazzo in realtà lo è e diciamo che avok butti avok via e gli metti falcon capito cioè nel senso ok nebula la goella se nebula la possiamo tenere a bada con la nostra kitty pride si abbiamo 6 già 2 tra l'altro abbiamo 6 già 2 tra l'altro facciamo così e facciamo unico qui turno 3 possiamo benissimo pensare di fare Angela più kitty pride su nebula vediamo se tanto c'è una location da poter switchare e poi e poi vediamo poi vediamo devo soltanto pescare nel modo giusto e non briccare perché sai come se mi bricco un bounce io posso veramente spaccarmi in dura testa vabbè ma noi ci abbiamo viste calmo 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 noi ci abbiamo viste calmo calmo stai calmo tu sei un junk ragazzi kill ho capito kill è brutto però kill è molto brutto kill è molto brutto cambiamolo subito cambiamolo subito si anche perché poi noi andremo a riprendere il nostro green goblin no lo andremo a riprendere con il nostro bist per fare robe metropoli dei mostri perfetto ole Angela kitty pride ah 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 è un lockdown questo dai ho capito che cos'è devo stare molto attenti perché lui c'è dovrebbe avere il proprio x lui però non può farlo su uno 4 perché è un asset a ora vonna perfetto e 1 e 2 però non so se mi dai non mi dai il punto teoricamente teoricamente non mi dovrebbe dare il più di energia se sta cosa non la so facendo summer più beast lo possiamo fare dopo lo possiamo fare dopo esatto quindi se dobbiamo farla dopo tanto vale che qui mettiamo tipo kitty pride spider em anzi no forse la kitty pride meglio qui intanto ce la riprendiamo a 0 lui facciamo beast capito godo 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 ci prendiamo Angela spider em tutto capito kitty pride più waspain quindi lui punterà a fare un bel profix a destra teoricamente e gli butterei no il green goblin ne lo darrei però è a 2 poi no hop summer più angela più kitty pride e green goblin capito capito il problema è che poi io non ho carte da poter usufruire con 6 git ma anche spider em capito ho poche carte a questo punto citiamo anche il green goblin perché ci prendiamo altri più 2 giravonna gilpiggy gilpiggy kitty pride ok 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 facciamo la stessa roba noi però in modo diverso ci prendiamo più 2 di energia se la squacciono a 3 poi che abbiamo da giocare dobbiamo giocare lui lui e sage buttiamo tutto in due location non ce ne freghiamo di utopia proviamo va proviamo ok 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 e poi sage facciamo un buoto dei punti jeff sage non basta lì però non basta lì vinciamo per differenza sa squash non è vero hitmonkey abbiamo vinto hitmonkey sage è bellissima utopia comunque ha reso tutto molto più maggio ho capito hitmonkey sage sasquatch abbiamo buttato una miriade di distanza il turno il turno 6 diciamo che adesso col bounce tu non punti a fare tutti quei punti o con hitmonkey o con werewolf solamente con quella carta lì ma te li puoi gestire te li puoi spalmare in diverse location perché c'hai sage perché c'hai sasquatch adesso che è una bellissima carta di chiusura capito c'è non punti a fare tipo un miliardo di punti con hitmonkey che è sempre godioso farlo onesto sempre godioso farlo spider emma subito raponna reslayer spider emma di nuovo lo stesso mazzo c'è capito ho capito mondo assassino kitty pride ma dai no devo giocare Angela qui per forza per forza così devo fare jeff va bene dammi una che sono umana ti prego va bene ci sta ci sta no 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 è un disastro questo questo è una scada bruttissima per quanto mi riguarda e gioca misterio gioca misterio no così no però così non ci siamo proprio mi serve vista quello se ne va se mi dai sasco ce lo posso giocare teoricamente perché sconta tre nico minoro regà apposta abbiamo perso per quanto mi riguarda che brutta pescata mamma mia che brutta pescata io non so come facciamo a vincere questo game qua lo dico e qua lo continuo a dire mamma mia ok ci abbiamo anche la prima ma oh ehi 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 hate monkey monkey mi serve dopo allora questo va a due questo va a uno questo va a uno non possiamo giocare tutto lo devo fare per forza così smoking bird e c'è l'aprio la squaccione a 5 perfetto questo è un turno del cacchio noi possiamo fare misterio qui il problema è che io devo buttarmi su due location per forza non posso giocare il green goblin cioè io devo fare questo come è così perdo ma malamente perdo perdo ma malamente anche se facessi la squaccione qui non non basterebbe nulla non basterebbe la roba è vero che qui faccio 4 punti e pareccio ma non basterebbe cioè io penso che qui l'abbiamo proprio persa questa partita vai gli regaliamo questi due belli cubettini a nice se avessi giocato al contrario se avessi giocato al contrario la squaccione tipo da lì avremmo vinto no neanche devo giocarlo in mezzo mamma mia che brutta mano però dai ci sta la fin fine abbiamo giocato in un deck anche particolare con avok avok boh un po' così è inutilizzabile se non per vari contesti non siamo riusciti ne a fare la combo con avok ops hammer in qualche modo perché non ci sono mai capitati insieme mai mai non c'è mai capitata la combo così com'è io vi consiglio comunque di provare il mazzo perché è molto divertente abbiamo molte combo a disposizione se non vi piace avok o non ce l'avete vi ricordo sempre di sostituirlo con falcon e poi noi nel corso della settimana avremo modo di provare altre variazioni con saswatch bella rega per la settimana